Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Mi è prima arrivata la scatola di Look Fantastic, la beauty box del mese di agosto e non ho voluto aspettare di più. Ho preferito quindi aprirla oggi qui con voi per mostrarvi appunto tutto quello che mi è arrivato. C'è da dire che Look Fantastic fa queste beauty box mensili e ovviamente se siete interessati potete abbonarvi a questo sito per ricevere appunto queste scatole. In realtà la scatola di Look Fantastic mensile contiene tra i 6 e i 7 prodotti prodotti che sono sia di make up ma anche di skin care diciamo che danno la priorità alla skin care. Questo mese c'erano in realtà due versioni di box in realtà non era possibile sceglierne bensì arrivava appunto a sorpresa c'era la versione 1 e la versione 2 la versione 2 includeva anche dei prodotti di make up e indovinate quale mi è arrivata? Mi è arrivata appunto la seconda versione. Vi faccio appunto vedere cosa c'è all'interno. Questo mese la scatola di Look Fantastic si presenta in questo colore super caldo e super estivo di questo colore diciamo arancione caldo, bellissimo e all'interno hanno rimesso questo libricino che appunto descrive tutti i prodotti contenuti all'interno il proprio valore e la modalità appunto di utilizzo. tra i vari prodotti che ho ricevuto ho ricevuto questa body lotion della Hava all'acqua del mar morto c'è da dire che io in realtà l'ho già swatchata l'ho già provata sulla mia pelle la texture non è niente male è molto idratante e ha una profumazione al mar morto pazzesca vi dico già che ho intenzione di acquistarla in full size questo prodotto contiene circa 40 ml di crema e vi dico anche quello che è il valore secondo appunto la brochure allora questo prodotto quindi questa body lotion ha un prezzo di 8 pound quindi siamo sui 9 euro poi all'interno ho trovato questa body wash quest'acqua micellare per il corpo della Mio di questo brand ho già provato altri prodotti per il corpo c'è da dire che alcuni di questi non sono per niente male questo in realtà non è nient'altro che un'acqua micellare da utilizzare sul corpo prima di detergerlo quindi basta bagnarlo applicare questo prodotto e successivamente ovviamente applicare quello che è il vostro bagnoschium o la vostra mousse ha una profumazione molto citrusy quindi parliamo di agrumi e credo che per questo periodo estivo vada piuttosto bene il prezzo di questo prodotto è di circa 3 pound e 15 quindi parliamo di un prodotto low cost poi un altro prodotto molto molto interessante che è uscito all'interno di questa box del mese di agosto è questo mascara di Aiko questo è un brand in realtà lanciato da un annetto un paio d'anni qui in UK e c'è da dire che questo prodotto contiene caffeina for why they wake us vabbè per mantenere gli occhi un po' più larghi diciamo in realtà questo prodotto io l'ho già provato perché all'interno della beauty box del mese di aprile se non erro c'era già questo prodotto e vi dico già in anticipo che è un prodotto ottimo è un mascara molto molto nero quindi extra black e ha la particolarità di questo prodotto che mi piace tanto è questo scovolino incurvato che vi permette letteralmente di incurvare le vostre ciglia e soprattutto districa molto bene il mascara sulle vostre ciglia quindi è un mascara davvero ottimo ovviamente abbiamo un prodotto in mini size quindi parliamo 4 ml di prodotto ma sono sicura questo è un prodotto ottimo perché appunto l'ho già utilizzato e vi dirò quello che ho possiedo l'ho quasi terminato il prezzo di questo prodotto si aggira intorno ai 10 pound poi un altro prodotto molto molto interessante che io avevo già visto in anteprima è questo balsamo per i capelli balsamo styler per i capelli di questo brand Percy Reed in realtà questo brand l'ho già sentito nominare ma non ho mai avuto il piacere di provare alcun prodotto di questo marchio questo prodotto in realtà viene definito come balsamo da applicare sui capelli umidi quindi tamponati con l'asciugamano prima di utilizzare il fono comunque un asciugacapelli e ha lo scopo di modellare i capelli e proteggerli dal calore appunto del fono che poi andrete ad utilizzare e può essere utilizzato non soltanto sulla lunghezza ma anche dalle radici quindi va districato molto bene sull'intera lunghezza del capello e sono molto molto curiosa di provarlo l'inci non è per niente male sinceramente e vediamo un attimo la profumazione ah è chiuso lo apriamo insieme si presenta in questo modo come un vero e proprio balsamo siero diciamo profumo molto 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 bello molto molto delicato mi piace tantissimo e ho intenzione appunto di utilizzarlo ovviamente di questi prodotti non posso darvi una vera e propria recensione perché non li ho mai provati ma sono veramente felice perché questo mese ci sono tantissime novità un altro prodotto che non vedevo l'ora di provare io ero quasi tentata nell'acquistarlo diciamo in full size ma poi per fortuna è uscito all'interno di questa beauty box quindi avrò modo di provarlo in anteprima è questo prodotto questo siero correttivo di caudalie di vino perfect la linea vino perfect e parliamo di 10 ml di prodotto questo sicuramente è un prodotto high cost infatti costa la bellezza di 15 pound e 33 in realtà io l'avevo visto in full size e il costo era se non ero 56 pound quindi parliamo di un prodotto comunque high cost ho veramente intenzione di provarlo in primis tra tutti i prodotti perché sono molto molto incuriosita è un siero che va applicato dopo la detersione del viso prima di applicare quella che è appunto la vostra crema idratante o nutriente viene applicato mattina e sera e infine l'ultimo prodotto che in realtà io quando l'ho visto ero molto scettica poi l'ho swatchato e non mi sembra niente male è questo blush di Bella Pierre in polvere mineral blush color amaretto c'è da dire che io non sono amante dei blush in polvere come anche delle terre in polvere preferisco quelle compatte in realtà l'ho swatchato e vi dirò non è per niente male vi faccio uno swatch sulla mano questo è il colore del blush quindi parliamo di un color malva quasi color mattone che va molto bene per questo periodo estivo e all'interno non so se rende la telecamera ci sono delle perlescenze quindi è un blush sicuramente che fa anche da illuminante e il prezzo di questo prodotto è di circa 15 pound lo so perché comunque i prodotti di Bella Pierre hanno un prezzo abbastanza elevato non parliamo di prodotti super high cost ma sicuramente un prodotto non lo costo non lo trovate sicuramente nei drug store almeno qui a Londra ebbene ragazzi questi erano appunto tutti i prodotti che ho trovato all'interno della beauty box di look fantastic il valore di questa box di questo mese si aggira intorno ai 60 pound io sinceramente sono contentissima di questo abbonamento che possiedo da più di un anno e vi consiglio veramente di partecipare anche voi di iscrivervi appunto a look fantastic e richiedere appunto queste box mensili perché sono super super interessanti avete veramente la possibilità di provare tantissimi prodotti di ottimi brand magari in mini size e quindi diciamo avere un'idea prima di fare un vero e proprio investimento e acquistare dei prodotti in full size o comunque dei prodotti high end spero che il video di oggi vi sia piaciuto mi raccomando se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi attivate la campanella delle notifiche noi ci vediamo presto con un nuovo video vi mando un basso ciao